Nel novero di un continuo rinnovamento di stile, di prodotti e di idee vincenti da lanciare sul mercato, anche Vespa si propone con un nuovo progetto di grande inter. Tutti, o quasi, amano le Vespe. E c'è da dire che da decenni, fin da quando i primi modelli sono giunti sul mercato, con una natura, ed uno stile e una proposta a motore davvero avveniristica per i tempi, la Vespa non ha. Oggi come allora. E se i modelli storici oggi sono da collezione, hanno un valore economico pazzesco. Al di là di quello affettivo, va anche detto che questo concetto di continuo successo si trasferisce anche alla. E se i modelli storici oggi sono i produttori infatti hanno pensato bene di non fermarsi e, in effetti, anche di recente si è arrivati a godere per un nuovo Varo da questo punto di vista. Una nuova Vespa tutta da godere.